Caricamento del firmware tramite il menu di preavvio nelle stampanti HP Enterprise Nota! Questo processo viene utilizzato per ripristinare una stampante dopo un errore irreversibile. Inserire una chiavetta USB in un'unità disponibile sul computer. L'unità deve contenere un formato file FAT32. Altrimenti potrebbe non essere riconosciuta dalla stampante. Andare su hp.com barra drivers e cercare la stampante in uso. Se sono disponibili molteplici versioni del firmware per la stampante, scegliere la versione adatta al tipo di pannello di controllo, FutureSmart 3 oppure FutureSmart 4 o 5. Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare il firmware più recente per la stampante in uso. Estrarre o copiare il file BDL dal file scaricato nella directory principale della chiavetta USB. Se la stampante non si avvia dal menu di preavvio, procedere come segue per aprirla. Accendere la stampante. Quando viene visualizzato il logo HP e quando la schermata di avvio visualizza uno di otto o un ottavo. Toccare immediatamente il logo HP o premere il pulsante X a seconda del modello in uso. Se il menu di preavvio non si apre, spegnere la stampante e provare a eseguire nuovamente il processo. Utilizzare le frecce per accedere alla voce amministratore, quindi selezionare OK. Navigare fino a Download, quindi selezionare OK. Inserire l'unità USB con il file BDL nella porta USB della stampante. Navigare fino a Download, quindi selezionare OK. Accedere al file BDL, quindi selezionare OK. Il firmware viene copiato sulla stampante. Questo processo può richiedere fino a 10 minuti. Una volta completato il trasferimento, verrà visualizzato un messaggio sul pannello di controllo. Rimuovere l'unità USB. Toccare più volte il pulsante freccia indietro per tornare alla schermata principale, quindi selezionare Continua. Attendere fino a 20 minuti mentre il firmware viene aggiornato. Al termine, la stampante si avvia aprendo il menu di configurazione iniziale. Impostare le preferenze della stampante, quindi continuare a utilizzarla. Scopri ulteriori video utili sul canale YouTube del supporto HP. Scopri ulteriori video utili sul canale YouTube.